Nel frattempo Francesco, prima ci dicevi e ci chiedevi per il numero 3, si parla di Gianluca Coronello, Franci. Attenzione qui, perché arriva! Il gol del 2-1 l'ha fatto brutto! Uno dei nuovi entrati, il pack, Davin Pizarro, 2-1, per la formazione di Planetwin365.news. E' entrato in 8 minuti, ha messo lui le cose a posto, indovinate però chi gliel'ha messa questa paglia. Mamma col tacco, Davin Pizarro, Francesco Totti per Pizarro. Grazie a tutti. Grazie a tutti!